Ciao, sono Vittoria Aureli, una ricercatrice dell'osservatorio sugli sprechi alimentari del CREA, Alimenti e Nutrizione di Roma. Per Frascati Scienza il nostro osservatorio ha portato in scena l'attività manuale antisprego per i giovani del futuro, un laboratorio teorico pratico per insegnare ai più piccoli come ridurre lo spreco e sensibilizzarli verso questa tematica. L'attività ha previsto una prima parte di spiegazione sul ciclo dell'alimento, in cui ci siamo focalizzati proprio sulla parte dello spreco che può avvenire in casa e come poterlo ridurre. Sono seguite poi due attività ludiche per i bambini, in cui abbiamo capito per prima cosa come un alimento non esteticamente perfetto è sicuramente buono da mangiare e qui possiamo vedere Federica brandire due perfette mele, entrambe buonissime ma non esteticamente perfette. Dopodiché abbiamo imparato a collocare nel giusto posto del frigo e della dispensa gli alimenti comprati al supermercato in modo da non farli rovinare e permettere quindi di non creare spreco. I bambini hanno mostrato un grande interesse durante tutta l'attività e come noi spero che siano tornati a casa con un gran sorriso. Grazie.